ciao a tutti ragazzi oggi vi mostro un nuovo video tutorial in questo video andremo a fare il backup della nostra playstation 4 bene come prima cosa ci servirà un harddisk esterno l'harddisk esterno ha quattro requisiti deve essere usb 3.0 non deve essere inferiore a 250 giga e non deve essere superiore a 8 terabyte e soprattutto deve essere attaccato direttamente alla nostra playstation 4 non ci devono essere hub switch o doppiatori usb altrimenti non ci prenderà l'harddisk un ultimo requisito il nostro harddisk esterno dovrà essere formattato in ex fat o fat a questo proposito ci viene in aiuto la nostra playstation ovvero noi andremo su impostazioni su dispositivi dispositivi di archivazione usb attaccheremo il nostro disk esterno alla playstation 4 e ci apparirà in dispositivi di archivazione usb adesso premiamo invio a questo punto ci dirà il nome dispositivo il futuro eccetera eccetera premiamo il tasto options e qua ci comparirà la voce che ce lo farà formattare come ex fat noi lo formattiamo si questo dispositivo è stato formattato come ex fat adesso possiamo metterci il backup andiamo su impostazioni sistema backup e ripristino esegui backup adesso ci farà tutto il calcolo delle cose che abbiamo sulla nostra playstation e se entreranno nel nostro harddisk ci salverà tutte le applicazioni cioè giochi youtube twitch tutte le piaccioni abbiamo installate i dati salvati ovvero e salvare i salvataggi dei giochi eccetera le catture cioè tutti i video e screenshot che abbiamo fatto i temi e le impostazioni avanti esegui backup adesso fa la preparazione adesso si riavvierà ok adesso inizierà a fare il backup per le tempissie di questa operazione dipenderà tutto dalla vostra playstation dai dati che avete salvati e soprattutto dalla velocità del vostro harddisk esterno io su 350 giga la mia ci metterà un'oretta e mezza quindi non ci resta che attendere bene arrivati a questo punto il nostro backup è completato la nostra ps4 verrà riavviata ok bene a questo punto andremo a ripristinare il nostro backup della ps4 per verificare se ha funzionato e salva tutti i dati correttamente cancellerò i giochi e ripristinare il backup così vedremo se funziona bene a questo punto se noi avremo cambiato harddisk oppure avremo una playstation 4 nuova ma abbiamo un backup facciamo il login andiamo su impostazioni andiamo sempre sul sistema backup e ripristino e faremo ripristina ps4 ecco qua questo è il backup che si trova nel nostro harddisk esterno invio ripristina ok a questo punto non ci resta che attendere di nuovo come vedete il ripristino della playstation 4 è molto semplice e quindi attendiamo bene il nostro ripristino è stato effettuato adesso andiamo a verificare se è stato effettuato correttamente ok l'accanto c'è e voilà ok bisogna riaccedere a PlayStation Network facciamo subito la verifica ok una volta fatto l'accesso a PlayStation Network proviamo ad avviare un'applicazione ok una volta che ha verificato le licenze vi partirà vediamoci se sono fatte due vari aggiornamenti vediamoci se sono fatte due vari aggiornamenti a presto a presto a presto a presto ok perfetto abbiamo verificato che funziona quindi il backup è stato fatto e il ripristino è stato fatto correttamente tutto funziona alla perfezione vediamo se ci sono le catture 2g88 c'è tutto ok ragazzi io spero che questo video vi sia stato utile se non l'avete fatto vi piace il mio canale iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati grazie mille alla prossima